certo un po' di moto è importante per me come per tutti e a tavola c'è olio cuore che mi aiuta a stare in forma olio cuore solo dal cuore del mais è un olio di mais dietetico l'olio di semi di mais cuore è un olio saporito leggero gustoso olio cuore ti dà tutto il sapore del mais olio cuore mangiare bene per sentirsi in forma